Salve, mi chiamo Luigi Gratton, sono vicepresidente del dipartimento di educazione nutrizionale Herbalife e sono membro del comitato consultivo per la nutrizione. Vi parlerò della ricerca scientifica che è alla base dei nostri prodotti e vi darò alcune preziose informazioni sulle abitudini nutrizionali che favoriscono uno stile di vita sano e attivo. È possibile scegliere i prodotti della nostra gamma in base agli obiettivi di benessere. Questo video vi farà scoprire in che modo i prodotti Herbalife possono aiutarvi a controllare il peso, prendere cura del vostro corpo e inoltre a soddisfare le vostre specifiche esigenze nutrizionali. Allora occorre dare equilibrio alla nutrizione e di questo parleremo ora. Ho dedicato gran parte della mia vita studiando gli effetti della nutrizione sul nostro corpo e posso dirvi che spesso l'organismo non riceve nutrienti di cui ha bisogno per funzionare correttamente. Risultato? La nutrizione non è equilibrata. Oggi tutti hanno fretta e pochi hanno il tempo per fare scelte sane sia nel mangiare che nel bere. Preferiamo i fast food, gli snack e le merendine già pronte, privando l'organismo di vitamine, minerali, fibre e proteine essenziali. Tant'è vero che un gran numero di persone oggi non si nutre in modo equilibrato come dovrebbe. I motivi sono tanti. Spesso la colpa è delle porzioni eccessive, degli spuntini fuori pasto, panini, tramezzini e cibi precotti poco sani. Se consideriamo poi la fritta che ci porta a saltare il pranzo e credere di compensarlo con una cena abbondante, si può dire che molte persone continuano a nutrirsi in modo poco sano. Ecco un esempio di cosa comporti un pasto pratico e veloce. C'è chi sceglie un panino con l'hamburger, patatine fritte e una bibita agasata. Altri optano per una merendina o una fetta di dolce. Pochi sanno che pasti del genere hanno un alto contenuto di calorie, grassi, zuccheri, sale e pochissime fibre, proteine, vitamine e minerali. Ad esempio un hamburger da solo può anche superare le 500 calorie. All'organismo invece serve una nutrizione equilibrata, cibi con poche calorie, proteine di qualità, fibre, vitamine e minerali essenziali. Vi piacerebbe avere un prodotto che vi offra tutto questo? Ad esempio un frullato ricco di nutrienti che potete preparare in un minuto? Una nutrizione non equilibrata e carente può avere molti effetti negativi sulla salute, alcuni più visibili di altri. Una conseguenza evidente è l'obesità. Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, nel mondo ci sono più di un miliardo di persone in sovrappeso, delle quali 300 milioni sono considerate obese. Meno visibili sono le patologie croniche normalmente associate all'obesità, come le coronaropatie o il diabete di tipo 2, spesso evitabili passando ad una dieta più sana e facendo più attività fisica. Una dieta carente è altrettanto dannosa di una dieta fatta di eccessi. Voi pensate di mangiare in modo corretto, potrebbero però mancarvi nutrienti vitali, ad esempio i vegetariani possono cercare di assumere vitamina B12 fondamentale per il sistema nervoso. Un altro esempio, frutta e verdura. Tutti dovrebbero cercare di consumarne almeno 5 porzioni al giorno. Eppure c'è chi ha difficoltà a raggiungere questa quantità o addirittura chi considera le patatine fritte una porzione di verdure. In breve, 9 volte su 10, non ci rendiamo conto degli effetti che ha sull'organismo ciò che mangiamo. Anche se nell'immediato non notiamo effetti negativi, col tempo una nutrizione poco equilibrata può portare a problemi di salute, ma è possibile cambiare. In Herbalife troverete soluzioni nutrizionali molto semplici ed efficaci per voi, a partire dai tre prodotti base. Che abbiate 18 anni o 80 anni, siate maschio o femmina o qualunque vita conduciate, nutrirsi in modo equilibrato è indispensabile se si desidera uno stile di vita sano ed attivo. I nostri esclusivi prodotti base garantiscono tutti i nutrienti di cui l'organismo necessita ogni giorno per sentirsi in forma. Il primo passo nella nostra ricerca di una nutrizione equilibrata è la Formula 1, il sostituto del pasto Herbalife. Ogni giorno in tutto il mondo si consumano più di un milione di frullati Formula 1. È incredibile. E come mai tante persone includono Formula 1 nella dieta quotidiana? Perché Formula 1 vi offre la giusta combinazione di nutrienti necessari per un pasto sano. Contiene proteine di soia, note per le numerose proprietà benefiche. Ad esempio, sono ottime per mantenere elevati livelli di energia, evitando i bruschi cali di vitalità durante la giornata. Un apporto giornaliero di 25 grammi di proteine di soia può aiutare a mantenere livelli equilibrati di colesterolo. Inoltre, le proteine di soia sono ottime per sviluppare la massa muscolare. Io ogni mattina, prima di fare attività fisica, bevo sempre un frullato per fare il pieno di carboidrati e proteine. Per ottimizzare l'apporto di calorie abbiamo fatto in modo che ogni frullato Formula 1, preparato con latte parzialmente scremato o latte di soia, dia un apporto di solo 220 calorie. Con un frullato al giorno, a colazione, a pranzo o a cena, più due pasti sani, potete migliorare l'apporto nutrizionale e mantenere il vostro peso ideale. Invece, per controllare il peso e nel contempo fornire all'organismo i giusti nutrienti, potete prendere due frullati al giorno, in sostituzione di due pasti, e consumare poi un terzo pasto equilibrato. Ora, ricordate le regole di base. Bere almeno due litri d'acqua al giorno, consumare cinque porzioni di frutta e verdura e fare moderata attività fisica. Fate un confronto con gli alimenti poco sani. Ora capite perché Formula 1 è un pasto sano e veloce che favorisce una nutrizione equilibrata? 220 calorie contro più di 500. Non mi pare una scelta difficile, no? Per quanto riguarda i gusti, ci sono diverse deliziose possibilità. Abbiamo i gusti vaniglia, cacao, fragola e frutti tropicali, per chi ha un debole per i classici sapori dolci, oppure gusti cappuccino e crema e biscotto, per chi ama i sapori cremosi e croccanti. Ora vi mostrerò due diversi modi per preparare un frullato Formula 1 alla vaniglia. Il primo consiste nella preparazione di un frullato veloce. Guardate com'è rapido e semplice. Versate 200 millilitri di latte nel mixer, aggiungete due cucchiai di Formula 1 dal barattolo, oppure usate le bustine monodose. Sono così pratiche. Chiudete bene e poi agitate per amalgamare e il vostro sano sostituto dal pasto è pronto. Quanto ci abbiamo messo? 10 secondi. L'altro modo per preparare un frullato Formula 1 è quello da gourmet, il mio preferito ovviamente. Sarebbe bene disporre di un frullatore, quindi quello che dovete fare è versare nel contenitore 250 millilitri di latte. Il gusto alla vaniglia è una base formidabile per il frullato. E allora ricordiamoci di aggiungere subito due cucchiai di Formula 1, un'operazione molto semplice. Un abbinamento direi fantastico con la vaniglia è quello d'aggiungere la frutta. Quindi abbiamo diversi tipi di frutta, frutti di bosco, fragole, ananas, ma io aggiungo la mia preferita, che è la banana. È sufficiente qualche pezzetto. Ora frulliamo il tutto, è molto semplice. E voilà! Solo pochi secondi. Lo verso nel bicchiere. Fatto. Ed ecco un gustoso frullato che ho preparato in una manciata di secondi. È fantastico e se non ci credete provatelo, davvero gustoso. Formula 1 risponde dunque a qualsiasi esigenza, controllo del peso, nutrizione equilibrata, maggiore vitalità e migliore forma fisica, anche in presenza di uno stile di vita frenetico e molto attivo. Ma non dovete credermi sulla parola. Ascoltiamo cos'hanno da dire in merito alcuni nostri clienti e come hanno sentito la differenza. Da anni e ogni giorno mi preparo un frullato Formula 1 Herbalife. È un passo completo che mi aiuta ad affrontare al meglio gli impegni di lavoro e l'attività, l'intensa attività fisica che pratico costantemente. Ho iniziato ad usare i prodotti Herbalife perché volevo perdere peso. Una volta raggiunto il mio obiettivo, ho continuato a prendere i frullati Formula 1 perché danno al mio corpo la giusta combinazione di ingredienti che un pasto sano deve avere. Il mio gusto preferito? Crema biscotto! Per me la Formula 1 è un pasto eccezionale. Mi dà una sensazione di benessere incredibile e oltre questo tanta energia per tutta la giornata. Ho sempre tanti impegni e devo contare su pasti che mi diano la possibilità di nutrirmi in un modo sano e completo. Per questo odoro i frullati Formula 1. Sono pasti completi, facili da preparare e soprattutto molto gustosi. Passiamo ora al secondo prodotto base, Formula 2 complesso multivitaminico. Formula 2 contiene più di 20 vitamine e minerali, tutti necessari all'organismo per una nutrizione equilibrata. Calcio e vitamina D per mantenere le ossa forti, zinco per il sistema immunitario, vitamine B a sostegno del metabolismo energetico, vitamine C ed E per proteggere le cellule dai radicali liberi e così via. Ma il problema che oggi abbiamo con alcuni cibi freschi, in particolare frutta e verdura è che a volte rimangono a lungo nei magazzini prima di arrivare sulle tavole. Non sorprende quindi che possano perdere elementi vitali come vitamine e minerali. Lo stesso vale per alcuni cibi lavorati e preconfezionati, anche se in questo caso la perdita di nutrienti è dovuta a motivi diversi e così ancora una volta l'organismo non può ricevere i nutrienti essenziali di cui ha bisogno. Formula 2 e Formula 1 possono quindi aiutarvi a raggiungere con più facilità i livelli di assunzione giornalieri di vitamine e minerali essenziali, una notizia fantastica, mi pare? Per completare la gamma dei prodotti base, ecco Multifibre. Studi condotti in diversi paesi indicano che l'80% degli individui non assume la quantità raccomandata di fibre. La carenza di fibre nella dieta giornaliera incide nell'insorgenza di problemi di salute piuttosto diffusi. Le fibre sono preziose per il corpo, aiutano il transito intestinale del cibo e il processo di eliminazione di scorie e tossine. Herbalife con il suo integratore alimentare ricco di fibre può aiutarvi a mantenervi in salute. Con Multifibre e gli altri due prodotti base potete davvero ottimizzare il funzionamento dell'apparato digerente. La ricerca scientifica Herbalife ha creato questo per voi, dei prodotti facili da usare e dei quali fidarvi. Milioni di persone hanno ottenuto risultati formidabili, maggiori livelli di energia, controllo del peso e più sicurezza in se stessi. Herbalife vi offre anche altri prodotti per esigenze specifiche o per la cura della pelle che si integrano perfettamente con i tre prodotti base della nutrizione intelligente. Basterà sceglierli secondo le vostre necessità e di vostri obiettivi. Di certo in breve tempo vi accorgerete degli effetti che una nutrizione equilibrata può avere sul vostro benessere fisico. Con Herbalife nulla potrà più fermarvi.